Guardi il passaggio che è ritardato Oddio E ciao a tutti Casteldacci Bentornati sul canale Oggi siamo con una persona speciale, presentati Ciao a tutti ragazzi, sono Cristian Iscrivetevi in questo video Iscrivetevi in questo video, no al canale Vabbè, iscrivetevi al canale Allora ragazzi Se ancora non lo conoscete Cristian l'ho menzionato nel video Dove spiegavo la nuova serie Dutch Challenge Ed è lui Che mi aiuterà in questa serie Lo scrivo anche in descrizione così non ve lo scordate Ho fatto cadere un masso Con i due bastoni Ah, dobbiamo fare cadere l'altro Che ho capito Infatti c'è una fessura qui sotto Ok ragazzi, finalmente siamo in questa mappa Eh, troppo figa A vedersi, poi a farsi, non lo so Mi sa che dobbiamo tipo metterli in quel modo Come cazzo erano? Aspetta, questo è sdraiato qui Aspetta così Aspetta, 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 sì infatti Però aspetta che lo metto tipo bilanciato Ok così No, no, più avanti, più avanti Più avanti sicuro Vabbè, è lungo il bastone Ecco, iniziamo con le frasi Aspetta, aiutami, aiutami Alza la, dalla Alza questo bastone Da qua, bravo, bravo No, questo è spingere Oh, bravo, bravo Eh, eh, vai, vai Aspetta che mi tiro un pochino più indietro Sennò non si alza Salta, salta Ok, ok, a posto Lo infilo Ecco, hai infilato compa E ora che devo fare? Do a abbassare, alzare Boh, proviamo ad alzare Che è successo? Oddio Non siamo troppo forti Eh, perché secondo te servirà Sì, sì, serve, serve C'è un'altra fessura Oh, in lontananza vedo da Ercatroia Oh, ok Io mi sono salvato Porca giura Aspetta che lo porto io in legno No, vabbè No, però l'ho infilato di sopra Eh, mi aggrappa al legno Eh, ragazzi Solo per Andrea Un saluto speciale per Andrea Il mio amico Andrea Eh, mamma Mamma Ok, vai, infila No, basta, basta Con queste frasi Ma dalla finestra? Oh Oh Eh Ma come? L'hai tolto Asset, aiuto Basta girarlo Aspetta Eh, guarda Quello che sto facendo Apposto Eccolo Aspetta, dobbiamo tipo tirarlo No, no Ah, ok Ma si sta aprendo Aspetta Lo sto tirando Lo sto tirando Aspetta, io tiro a te Io tiro a te Aspetta, forse si apre Forse si apre Vediamo Sì, apposto Apposto Vai, continuiamo così Vecchio Io ti sto aggiustando la schiena Ma ma Ti siamo forzuti Salvataggio Allora E qua che cazzo si deve fare Ci dobbiamo mettere in prigione Oh Ehi, oh Ancora là Sì Oh, ok Ok, là c'è un cubo Però prima vediamo Oh, mi schiacciando Allora, vediamo di prendere Oh, si abbassa Si abbassa No Spider mink Spider mink E mi sa che mi serve L'aiuto di Christ Ok, io sto qui Bravo, bravo, bravo No Minchia roba Porca diesel Diesel, diesel Si, ha benzina Ah, aspetta Quando tu prendi il cubo Io lo faccio abbassare Cioè, mi metto lì Ah, bravo Rimani lì Bravo, bravo Lo so, bravo Finalmente una persona adatta Per questa serie Molto capace Nonostante sia Il primo video Che fa con me Suoman Regà, a parte che Non ci ho giocato mai È la prima volta Cioè Eh, aspetta Aspetta Che forse Mamma mia Ma sono un mostro Oh, lui Ehi, ehi Ok Ok Pesaliamo qua Ok Regà, andatevi a guardare Trash Vendikus E tutte le serie Il primo episodio Il primo episodio Soprattutto Anzi, no Il secondo è più bello Basta Pure Andrea Cugino Mi manda i messaggi Partecipa in modo indiretto Nella mia serie Ma che Eh Il primo episodio È il secondo Che hanno fatto Molto successo Compa Ma si abbassa Questo No, vero No, si abbassa Ok, che culo Allora In teoria Dobbiamo soltare qua Eh, già Aspetta Ma c'era pure Un'altra parte Forse Sì, sì Dall'altro lato Mi pare Ah, no Pure di là Vabbè Comunque Andiamo qua Sì, spero di sì Minchia le mani mouse Io l'odio Sto gioco per questo Guarda che fa Guarda Non si attacca Ma ne sai usare le mani Parca di Oh Oh Finalmente Ok, compa Salvataggio Oh, cazzo Oh, cazzo Oddio Dove sono? A posto No Un altro cubo Sì, infatti C'è un altro cubo Da prendere Compa Ma quant'è E' pure un altro Bassone Mark Viva la finca Viva Cristian Viva Daniel Mamà Mamà Ok, ragazzi Vediamo se Il consiglio Che mi ha dato Cristian Funziona Così? Sì Aspetta, vediamo Forse no Stava funzionando Aspetta che lo metto meglio Uh Eh, viene male Metterlo tipo dritto No, orca troia Minta, dalle bastonete Sogno fuori Ok 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 Orca troia Ma perché si gira Sto legno Fa solo Oh, alleluia Eccolo Eccolo Il consiglio Tieni Oh, aiuto Oh, io sto qui A fare petto Pura Vabbè Metto anche il cubo Allora Vediamo se funziona Grazie Grazie per avermi schiacciato La testa Prego Ok Sta funzionando Oh, aiuto Ce l'ho fatto No No, non ci credo No, apri il cubo Come il cubo pure No Vabbè Tanto c'è il legno Messo bene Quindi Easy E metti Torna il checkpoint Da Raga Spero tanto Che non duri Un'ora Come gli altri episodi Perché Minchia Questa mappa Si prevede Un po' difficile Arca Sali dritto Sali dritto Sali dritto Ok A posto Dai ma Non ci credo Oh E sali Sì Ah ma di qua c'è Ah no Si ritorna indietro Guardalo No Perché sto scendicando Aspetta Il cubo Lo metto più sopra Boh Così va bene In caso Tienilo Mentre sei sopra Posso andare Aspetta Aspetta Non andare Non andare Basta Che mi mandano i messaggi E che cazzo è Ok vado Vado Dove fai No niente È la mia madre Che mi sta chiamando E perché ti sei buttato Non mi sono buttato Mi sono buttato Sì Sono vivo però Compà compà Ce l'ho fa Arca No compà Che cazzo faccio No Se cato di nuovo Ok ce l'ho fatta Compà A posto Salvataggio E mo qua Salvataggio A posto Sì Posso che mi butto Qua che devo fare Mi devo aggrappare al legno Eh mince Che bella presa Sdush Ma che mi chiamano A te ti chiamano A me mi mandano sempre messaggi Ogni volta che registro Quando non registro Non mi caga nessuno Non posso rispondere Oh Tarzan Oh Tarzan E sali Cribbio Aspetta forse mi devo lasciare Mamma mia Che è successo Sto passaggio è ritardato Si fuma le canne No L'arco Eh dove sei Oh prova A tipo A lanciarti da qua Aspetta io voglio provare Invece un'altra cosa Sempre se si può fare Aspetta aspetta Da dove? Da lì Dove c'è la rampa lì Ah da lì è vicinissima Hai ragione Ok ci sono riuscito Quindi non c'è bisogno più Che ritorno l'antica Perché come ci ritorno Se è legno No Qua qua Sono ancora qua E' tutto monco Sto personaggio E' troppo monco Immagino che io Deba salire lì No è tipo Ah no giusto Bella a tutti i ragazzi Forse forse Prende il salvataggio Vabbè comunque Ho preso il salvataggio io Ok ti aspetto Nel frattempo Ragazzi Vediamo che devo fare C'è una palla gigante Che cade dal soffitto Immagino che io Forse Oh cazzo Non è che tipo Devo abbassare il legno Perché là c'è un parkour Da fare Aspetta forse siamo vicini Alla fine Quella è alla fine Boh Boh Proviamo ad abbassare il legno Eccoti Aia Sto provando a fare Una cosa qui Non so C'è una palla gigante Eh si Ah che qua si può abbassare Vediamo Ok No 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 Ah forse Ho capito Compà Eh Metti il cubo Tra queste due linee E io Abbasso qua il legno Si abbassa più Aspetta forse Mi devo rimettere Là sopra Come ho fatto Ad abbassarlo prima Non c'è una manforfetta E basta Sti messaggi Si funziona Ho abbassato il legno E tipo La palla Si è un po' fermata Dobbiamo abbassare Tutte e due Ah e lì in fondo C'è un altro cubo A posto Easy Messo Ok vediamo Come arrivare Dall'altro lato E Ed E poi qua è facile Qua devo mettere Il legno Aspetta Ma basta C'è Andrea Che mi manda Sempre messaggi Ok ce l'ho fatta Ce l'ho fatta A posto Basta Andrea Mi sta chiamando Pure Ma che problemi ha Per una volta Che non gli rispondo Ma lo dobbiamo fare cadere Bu Non credo C'è come Basta Andrea Che mi sta chiamando Ma che cazzo Vuole Ah ok Ho capito Aspetta che te lo avvicino Di più Perché poi è impossibile Portarcelo dietro Il cubo Ok io Sto prendendo il cubo Qua te l'ho avvicinato Aspetta che chiude la porta Oh che è successo È successo Raga Stavo facendo una cosa E qua Qua sta arrivando Cioè Sto prendendo il cubo Dai che questa mappa La finiamo subito Casteldacci Casteldacci Mi ha dato un altro salvataggio Mi ha dato un altro salvataggio C'è fatto Ah post Mentre di là Ok Ci sono altre cose da fare Raga ma quante cose ci sono Oh Ah e qua come ci arrivo Adoro riprendere il legno Sì devi prendere il legno di nuovo Madò Ok Ma io spero che sta finendo sta mappa Sennò dura mezz'ora come le altre Oh Lo prendi sto legno sì o no? Chiduroro Chiduroro Poi ovviamente mandaglielo A quello che ha inventato Chiduroro Ma 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 non so Non vi dico chi è ovviamente Eh non possiamo dirlo No Guardi il passaggio che è ritardato Oddio Oddio aspetta Oddio Oddio Ce l'ha messo giusto Non ci che io Bu Sono scioccato Delle cose No Mamma mia Cioè Questo episodio Non può essere Non può Non essere caricato Su youtube Esatto Ok Abbassiamo pure questo I grazioni Quando ti arrambichi Uh La palla è caduta giù Oh Ed è messo pure buono Per andare dall'altro lato Cioè Troppo Troppo bello Oh Arrampicati sulla roccia Cioè Sulla Sulla palla giù Oh Lui Guarda Poi un po' di qua Non c'è bisogno che salti Sì Infatti Ce l'ha messo in un modo strano E forse Devo arrivare o giù O qua C'è tipo un'apertura Boh Vabbè Ora vediamo raga Un buco Ballo Ballo Ok Salto No forse ho sbagliato Salto No Mi sono tipo incastrato Aspetta forse arrivo nel buco No è troppo lontano sono Aspetta ma forse mi conviene dall'altro lato tipo Peccato perché là c'è il ponte Ok buono Ok No 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 veloce Compà compà No Sì No Sì No Sì Oh ce l'ho fatta compà Salvataggio Vediamo Aspetta Sì salvataggio Ok mi posso chiccare Ma che è navuto Navuto bassone Bassa Ma se direttamente salgo da qua Eh infatti Oppure in caso Non funziona la leva Eh infatti Oppure in caso non funziona la leva Oh non è Forse dobbiamo portare il legno A presto a noi Bra Boh non lo so Mince sono caduto di lato Ok Nel frattempo vedo di buttare giù queste cose Ok picciotti Allora buttiamo prima questo E non è Buttati giù Ok l'altro Stiamo andando molto più spediti Delle altre mappe Però spero che tanto Che stiamo arrivando Alla fine Cioè guardate là Ma quante cose ci sono Boh Dov'è la fine non lo so Allora che dobbiamo fare Come ci arriviamo Con l'asse Ah no Ho capito Ho capito Almeno spero Se no Dobbiamo tipo usare il bastone Vediamo se tipo da qui sopra Ci possiamo arrivare Vediamo Ok Sì ma se magari si attaccasse con tutte le due mani Stummo a un goflettico Ok vediamo se funziona Compa sono arrivato nell'altra mappa Minchia Sto troppo forte C'è qua voglio dire Nell'altra Nell'altro punto Ok Ah ok col cubo Opposto Qua invece dobbiamo prendere Erlegno Erlegno Ottiamolo 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 qua al cubo Spero che provo a prenderlo Ma forse tipo Micel Oh no No Eh bravo fai pezzo per te Eh non c'è pensato Oh 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 Tadai ci sono pure salito sopra No no scherzo E l'ho preso pure benissimo Aspetta Forse dobbiamo andare da questo lato Vediamo se ci riusciamo Mi sembra un pochino distante Boh vabbè Ora vediamo E forse ci arrivo Aspetta vediamo Ci arrivi Non credo Di poco Ah ma serve il peso No Ha rispawnato là Il legno Ma Cristo Ok Mi attacco lì Mi attacco lì Ok Spai che Rimetto il cubo qui Guardalo No no Sì Ok mettiamo Erlegno là Sì Prendi pure il cubo Prendi il cubo Il cubo Sì almeno mettiamo Un altro peso in più E rimane stabile È stabile È stabile Buono Così andiamo tipo Nelle cose Che cazzo sono Luna Park Pare Aspetta Te lo tengo io Epp Sì Ci arrivo A posto Con una mano però Eh aspetta No Non ti preoccupare No C'è la moto Ma il volume è bello alto Sì a posto è bello alto Così ti senti meglio anche tu nel video Permesso Oh aiuto 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 Che sto facendo No 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 A posto a posto Ci sono arrivato A posto Solta Sono qua Sì salvataggio mi ha dato Ok Intanto Vengo Andiamo da Oh cazzo Che è successo Eh si è staccato Un legno Ah vabbè a posto Non è caduto Ma perché dobbiamo fare Ora qua E vabbè E pensa tanto Che dobbiamo No compà Che figata Aspetta che mi aggrappo Oddio Compà aiuto Aiuto Compà Prova ad aggrapparti È fighissimo Forse tipo Ci saltiamo a metà livello Tu immagini Buono Stacchiamoci A greppi Qua qua Guarda compà No È perché mi fa staccare Cazzo Perché è buona La tattica Oh lui Dove Staccare invece lì Dove Dove Nelle cose che ruotano Porco Eh vabbè Per andare avanti Tu dici là Sì sì Eh però È un po' difficile Perché appunto Passano ste cose Eh vabbè Non le tocchiamo E uno Eh No Eh Gesù È sempre lui Oh No Ho fatto cadere una cosa Forse ho sbagliato Che sento L'hai visto No Non l'ho visto Vabbè Ora appena ti arrampichi Lo vedi Ho fatto cadere Tipo il coso dove Dovevamo appoggiarci Guarda Non c'è più Guarda che mongo Rimango attaccato Se non mi colpisce Ma guarda No Vabbè Eseguiamo la tua Sì ma poi dove C'è passiamo No no A posto A posto A posto Era giusto così Mi sta salendo Il nervoso Mi sta salendo Il Gesù Oh Vabbè lui Non è che queste tavole Servono a Che si spostano Eh Bu non lo so Eh però Ho paura che poi tipo Servino Là Proprio per L'appoggio Aggrappati Oh Compa sono dall'altro lato Vediamo se mi da il checkpoint No non me lo da Minta se cadiamo Cioè ritorniamo tutto là Quando finisce Dammi un checkpoint Aiuto No questo No compa Sì Qua è molto più difficile Qua No compa Oh cazzo No compa No no Sì invece Sì ce l'ho fatta Aiuto aiuto Aspetta dimmi che non mi Che bordello è qua Aiuto 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 No 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 Non sono caduto Sono Cioè posso rifare Mi sa il livello Però non so Se ci sono le assi Aspetta vediamo O forse direttamente dall'altro lato Mi fa spuntare Vediamo Ah sì A posto A posto Posso venire Eh cioè no Però aspetta Ok mi attacco Appena Veloce 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 Maria Maria compa Che ansia A sto livello E però il salvataggio Non me l'ha ancora dato E qua che cazzo Dovevo fare No compa No è No 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 Grazie per la visione